Semifinale di andata, il torneo San Nazaro in Serie B si affrontano a Nonnatoi che è Pierifrid contro il Dream Team. A Nonnatoi è vantaggio per 1-0 grazie a un diagonale di Scogna Mio deviato, deviazione che ha tratto in inganno Minopoli. Dunque vantaggio per a Nonnatoi che adesso avanza con l'Oasis che quest'oggi rientra, fermato però da Gentile che guadagna anche la rimessa laterale. Somma, riparte bene, Carpino, attenzione, buono lo scambio con Somma, la palla ancora dentro per Esposito. Qui un po' troppo altruista, Somma, avrebbe potuto calciare invece che provare un'Oasis, la palla si spegne in fallo laterale. L'Oasis si incarica di questa rimessa laterale, battuta per Scogna Mio, all'indietro per Peluso, poi Mimmo Caprini. Ancora Scogna Mio avanza un po' di spazio, cerca Peppe Caprini che si lascia cadere, non c'è fallo e parte velocemente il contropiede, il Dream Team già fermato. Somma adesso laterale, battuto, buona la palla per Carpino in mezzo a tre però viene fermato inevitabilmente. Poi Peppe Caprini fermato anche lui in fallo laterale, l'Oasis. In dietro serve Scogna Mio. Ancora buono mezzo a due, c'è il fallo, calcione subito da Scogna Mio, che l'ha rifilato nell'occasione Carpino. Scriviamo questo calcio di punizione prima di chiudere il collegamento. Due uomini in barriera, sono Carpino e Somma. Parte Scogna Mio, colpisce proprio Carpino. Uno a zero il punteggio. Chiudiamo qui.